Due anni prima UTF? Ah, flashback Sto cercando di capire Non c'è armi Va buono Per ora non c'è armi Vabbè, oh chill dopo tutto quel che abbiamo passato Questo cos'è? Beh, però è stato bello questo atto perché Due capitoli Di Cazzi supremi E due capitoli flashback chill Anche se quello con Joe è il tanto chill non è stato Però Comunque sia Sicuramente è meglio del capitolo dei Serafiti Ecco, a livello di tranquillità Sono partiti quasi tutti Andrò anch'io Non so con quale gruppo Io ho votato per inseguire il contrabandiere E la ragazza Il contrabandiere Anche se trovassimo lei o per miracolo Qualcun altro immune al contagio Sarebbe inutile L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto Il miracolo Qualcun altro immune al contagio Sarebbe inutile Qualcun altro immune al contagio Sarebbe inutile L'unico in grado Ha mentito Annie Incazzata Oh, vieni qui Che ti è saltato in mente Scappare così nel cuore della notte Avresti potuto parlarmi Non lasciare uno stupido biglietto Spiegami Che è successo qui Ti ho portata via Uccidendo tutti Se mi menti ancora una volta Me ne vado E non ci rivedremo mai più Ma se mi dici la verità Io tornerò a Jackson Qualunque essa sia Dimmi la pasta Joel Joel Per creare un vaccino Ti avrebbero uccisa Io li ho fermati Io li ho fermati Prima Oh mio Dio Cazzo Non mi toccare Tornerò indietro Ma abbiamo chiuso Mi è costata parecchio cara Allora Già